non lo buono streghe della città mutante tra tutti buone le scatole perché c'è il batteriero sappiamo che non avrò mai la risposta ho cercato di meandrino arnia quello che non potrò trovare ma quanto cazzo è grande sta mappa di merda ma perché c'è una testa vabbè e poi sono una testa che ci sono degli uomini in mezzo agli alberi ok mi cantino a fare domande io che cazzo vogliono sono troppo forte io non potete fare niente sono troppo bello per morire vai vai immagino il blob che dici sono troppo bello per morire non lo so, non ci sono troppo grande, non ci sono troppo bello ma non ci sono, non ci sono troppo bello fai la cacca una persona drink box game bro color perché faccio domande andiamo avanti 19 death con 3 defi con 3 siamo tornati piccoli sono tornati da verci un piccolo sono dei razzi dei missili diventa un esplosivo all'aula il più grosso adesso ciao mondo sento rumori brutti guarda vi dico una cosa qui ci torneremo ci torneremo sì me volevi ok ovviamente non si può andare ok facciamo così tratta drac io posso io posso quindi posso posso e posso la maggior parte del commento mi sarà cosa senza senso ma guarda bene perché io sono senza senso mi hanno buttato fuori non pensare male ho fatto a posta allora andiamo avanti papi papi sono bello sono bello sono bello no vor qua a un piccolino mannaia la mannaia che più mannaia non è mannaia ma allora porco il porco che più porco non è porco ma allora ah non ho capito la passata ma ahhh sono troppo ma ahhh ho fatto bene però ok ok va bene F non voglio specificare di cosa eh ve l'ho detto che ci ritornavamo qua ciao andiamo tra poco possiamo mangiare le palle non pensate male ma so se l'avete già fatto no voglio andare al carro armato voglio andare proprio al carro armato posso passare? no 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 dai entriamo nel buco quanto è piccolo c'è una piccola perché ci sono degli un po ha rifiuto uno con firme venite qua che dì non dico cosa vedete l'argento ma mi è troppo forte è un troppo forte gnam no volevo gnam posso mangiare? no, volevo la 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 Grazie.